Vediamo la formazione del segnalo applicato dalla stagione BAKUN 950D all'istagione del calcio durante il warm-up e l'operazione. Ho collegato il probe dell'oscilloscopo direttamente al elemento di calcio del calcio e la stagione di calcio è setta a 250 gradi. Alla stagione la stagione di calcio. Proviamo quasi 19V alla stagione con un signale PVM che moduliamo la potenza alla stagione. E' tutto. Ok, single capture mode. So, now we can see better in detail what's happened. Basically, at the beginning, as expected, the tip is powered with 19V always on for almost one second and something. And then, again, so the PVM here is pretty high. The duty cycle, sorry, here is pretty high. And then, when it reaches the desired temperature, it starts to modulate, reducing the duty cycle of the PVM. Okay. And then it keeps bursting this same signal, less and less depending on the temperature that is going down and rot. Yeah. Okay. That's it. Bye. 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 Bye.